Un atto di inciviltà è ancora una risposta della città, dell'amministrazione comunale che grazie ai lavoratori della Reset, seguendo le indicazioni della sovintendenza, stiamo riportando alle condizioni precedenti questo leone che un incivile ha pensato di sfregiare. Abbiamo effettuato dei test, come potete vedere qui in quest'area, per mezzo di un gel specifico per la rimozione dei graffiti vandalici. Poiché abbiamo ottenuto dei risultati soddisfacenti, si è deciso di procedere con quest'operazione.